Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna dal mercato di Cervia. Questa mattina conosciamo Rocco Torres. Buongiorno a tutti. Tessuti d'arredo, campionario Madinitali. Guardate che belle cose che ha Torres. Allora scopriamolo un po' questo collega ambulante. C'è una signora che sorride. Allora da quanti anni facciamo gli ambulanti? Circa 15 anni via. 15 anni. So che hai tanti figli anche che lavorano. Fate tutti lo stesso lavoro. Sì è un'attività. Siamo stati tutti quanti inghiottiti da questo lavoro. Ecco quindi fate tutti gli ambulanti e fate i mercati. Ci vuol dire che mercati fate così? Abbiamo Cervia, abbiamo Rimini, abbiamo Riccione, poi abbiamo Chioggia e poi abbiamo le terze domeniche di Pesaro. Dal mese di maggio Torres lo troverete anche al mercato di venerdì mattina a Cesenatico. So anche che due figlie apriranno un negozio a Forte dei Marri. Lo vuoi dire dove così facciamo sapere anche chi è? Sono Grazia Torres e Lucia Torres in via Ponchielli che è a ridosso della Pineta, del mercato di Forte dei Marri. Bellissimo. Quindi proprio una famiglia che lavora a conduzione familiare. Quindi mercati e adesso anche un bel negozio in una bella posizione. E delle ragazze. Ecco, diciamo che comunque è una bella soddisfazione da genitore perché comunque intraprendono un'attività di famiglia. E qualcosa di nuovo anche perché insomma un negozio è diverso dal banco però mercologicamente siamo lì. Sì, anche perché i prodotti sono di qualità, mamma mia che belli che sono. Abbiamo del tessuto francese, abbiamo dei filati francesi, abbiamo dei profumi francesi. Ecco, facciamo vedere anche i profumi avete. Bella, bella, mamma mia che bello. Qualcosina di particolare. Sì, bellissimo, complimenti. Le ciotole in porcellana. Ecco, quindi cercate proprio di avere qualcosa. Ovviamente le ragazze nei negozi hanno una vasta più completa, più... Ebbè certo, anche perché al mercato si fa fatica a portare tutto. Per motivo di spazio. Certo, certo. Allora, ricordiamo a tutti che questo è l'ultimo mercato invernale di Cernia. Poi dove ti sposti? Siamo nella stradina laterale di fianco al bar Vaniglia. Ok, perfetto, perché lo diciamo a tutti che praticamente il mercato di Cernia è l'ultimo invernale e poi inizia l'estivo. Facciamo vedere quanti bei colori. Facciamo vedere bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, ti salutiamo e grazie. Grazie a te. Collega, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Da Gioia Emilia Romani Ciao, ciao.